Cara rettrice, care colleghe, cari colleghi, care studentesse, cari studenti, per me è un grande onore partecipare con questo breve messaggio di aguri al quindicesimo anniversario della fondazione della nostra Università. Mi permetto di dire nostra perché dal 2017, grazie al dottorato Noris Causa che mi avete generosamente conferito, mi sento fiero di appartenere alla vostra comunità accademica. Oggi più che mai il ruolo di una Università che si occupa di salute è fondamentale. Negli ultimi 40 anni il neoliberismo ha distrutto la rete sanitaria pubblica che in molti Paesi aveva garantito ai poveri e ai cittadini della classe media il diritto alla vita. Partiti politici che hanno fomentato l'odio e l'egoismo mettendo i poveri contro altri poveri hanno adottato politiche disastrose per favorire la sanità privata e l'istruzione privata. Il diritto alla salute e il diritto all'istruzione sono i due pilastri su cui si regge la dignità umana. Il compito di noi professori non è solo quello di trasmettere conoscenza, ma è anche quello di formare cittadini colti e solidali, capaci di costruire una società più giusta e più egualitaria. Scienziati e umanisti devono allearsi per difendere il sapere dalla corruzione dell'utilitarismo e del mercato. Il grande filosofo tedesco Kant ci ha ricordato che le scuole e le università devono essere soprattutto palestre per esercitare il pensiero critico, per smontare i luoghi comuni e i falsi valori della società. Oggi invece scuole e università rischiano di allevare consumatori passivi che inseguono le mode tecnologiche e il mito del guadagno. Scienziati e umanisti hanno un compito difficile in questi tempi dominati da un capitalismo rapace. Bisogna nuotare come salmoni controcorrente, risalire le acque, per difendere l'autentico sapere libero dai condizionamenti del mercato, per difendere i giovani dall'ossessione del consumismo, per difendere il nostro pianeta, la nostra casa comune, dalle imprese e dai governi che la stanno distruggendo. Questo quindicesimo anniversario cade in coincidenza del nuovo anno. Mi pare un fatto simbolico importante che un nuovo impulso a pensare una società più giusta, più egualitaria e migliore possa venire dal Brasile e dai colleghi e dagli studenti di questa e di tutte le università brasiliane e del mondo. Un abbraccio a tutti voi e auguri per questo anniversario.